In Verisur mi occupo di monitorare la qualità del servizio e di intervenire con attività e iniziative rivolte a migliorare le performance delle persone e di conseguenza alla soddisfazione del cliente. Collaboro con un team giovane, appassionato, con il quale ci misuriamo sempre con entusiasmo verso nuove sfide. Quello che amo maggiormente della mia attività è essere di supporto all'organizzazione e alla crescita professionale delle persone dell'area di customer service. Mi capita di lavorare con tanti colleghi e riuscire a portare a termine molti progetti. Questo è un motivo di grande soddisfazione per entrambi. Verisur è parte di un gruppo internazionale che ha come mission la protezione delle persone, ma Verisur è anche un'azienda fortemente orientata ai suoi dipendenti. Le persone sono al centro di un percorso di sviluppo, sin dal loro ingresso in azienda con un programma di formazione dedicato. Lavoreremo per supportare sempre di più la crescita di Verisur sviluppando competenze distintive e risorse eccellenti.